bella regà qua è Savix che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi ragazzi vi voglio portare un metodo assurdo andremo a mettere le auto che abbiamo all'interno della nostra officina in god mod e la cosa bella che anche se scendiamo la diamo un nastro amico la macchina rimarrà lo stesso in god mod quindi iniziamo con il video quindi regà a questo punto cosa facciamo diventiamo membri della sicuro server e come requisito dovremo stare all'interno dell'officina a questo punto una volta che abbiamo anche un veicolo all'interno dell'officina siamo davanti al tabellone ragazzi e abbiamo fatto il ceo andiamo a chiamare simeon in modo tale da farci mandare raga un'attività a questo punto raga una volta che ci siamo fatti mandare l'attività cosa facciamo aspettiamo che arriva l'attività sul telefono e dobbiamo fare il trick del menu di pausa quindi cosa dobbiamo fare apriamo il telefono andiamo sulla notifica e la apriamo quindi due volte ao x per aprire la notifica a quel punto raga dovremmo tenere il menu di pausa schiacciato e una volta che lo teniamo schiacciato premuto cosa facciamo clicchiamo subito a e rilasciamo il menu di pausa in modo da sentire raga il bip del telefono e il menu di pausa aperto questo punto cosa facciamo andiamo su attività raga avvia attività create da rockstar missioni un lavoro da titano e come facciamo a capire se ci siamo buggati raga perché andremo a avviare il titano ci farà una schermata glitchata tipo questa e in alto ci sarà scritto un lavoro da titano simeon ragazzi come vedete se vi ha mergiato l'attività in questa maniera vi siete riusciti a buggare è facilissimo raga a questo punto clicchiamo una volta b e spammiamo freccia destra raga finché non ci riavvierà il lavoro da titano originale questo punto semplicemente chiudiamo l'attività e una volta che siamo spawnati raga saremo in questa situazione potremmo muoverci e sarà tutto buggato cosa facciamo adesso cerchiamo di andare di sotto raga e scegliamo un veicolo che vogliamo mettere in gold mod una volta che abbiamo scelto il veicolo prima di salire raga chiudete il vostro ceo e una volta che avete chiuso il vostro ceo salite sul veicolo e non siamo saliti sul veicolo raga cosa facciamo clicchiamo freccia a destra e subito dopo spammiamo a ragazzi o x se giocate da ps accetterete quell'allerta schermata buggata e sbada bam ragazzi saremo in god mod da veicolo quindi sarà completamente indistruttibile ragazzi quindi lasciate un like lasciate un commento supportate xavix supportate il canale ragazzi e niente alla prossima sbada bam raga